Dal Vangelo secondo Giovanni In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli Molte cose ho ancora da dirvi ma per il momento non siete capaci di portarne il peso Quando però verrà lo Spirito di verità Egli vi guiderà la verità tutta intera perché non parlerà da sé ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future Egli mi glorificherà perché prenderà del mio e ve lo annuncerà Tutto quello che il Padre possiede è mio Per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annuncerà Gesù non è l'unico figlio di Dio Questa espressione detta così potrebbe apparire un'eresia e contraddire la verità di fede della Santissima Trinità che celebriamo questa domenica la prima dopo il tempo di Pasqua Eppure mi sembra il messaggio fondamentale che ci offre questa festa liturgica quasi che fosse un modo con il quale la Chiesa voglia rileggere se stessa alla luce dell'evento pasquale e del messaggio d'amore che da esso proviene Tornando al tempo liturgico ordinario dopo quello quaresimale e pasquale la Chiesa vuole ripartire nella sua missione feriale ancorandola alla verità più profonda di se stessa Infatti essa è come una goccia d'acqua nella quale si riflette l'immensità del cielo La Chiesa, intesa come comunità di uomini e di donne piuttosto che una grande istituzione umana trova la sua identità nella foto di famiglia scattata nel cenacolo lì dove Gesù riunisce attorno a sé i suoi discepoli Soprattutto nelle parole riportate dall'evangelista Giovanni nel contesto dell'ultima cena Gesù istruisce i suoi discepoli sul fatto che essi non sono abbandonati da lui ma che, mediante la sua morte saranno introdotti nella grande famiglia di Dio A tal proposito mi piace rileggere le parole di Gesù alla luce della parabola del Padre Misericordioso non semplicemente nella forma con la quale ce la consegna l'evangelista Luca ma riscritta, per così dire, da Gesù che veste i panni del fratello maggiore La parabola del Padre Misericordioso, infatti è incentrata sulla relazione che intercorre tra il genitore e i suoi due figli Un ruolo importante lo gioca all'eredità Il minore esige la sua parte prima che il Padre muoia Gli viene concessa, ma la dissipa riducendosi in miseria fino quasi all'ambire la soglia della morte Quando decide di ritornare, mosso dalla speranza scopre che il Padre lo attende non per punirlo, ma per accoglierlo di nuovo in casa e restituirgli la sua dignità di figlio a cui lui stesso aveva rinunciato Il figlio peccatore è problematico fa esperienza dell'amore vero quello che non viene mai meno L'amore del Padre supera le aspettative e la preghiera del figlio prodigo La speranza del figlio che motiva il suo ritorno alla casa paterna è ben poca cosa rispetto a quella che riversa nel suo cuore la gioia del padre Nel racconto, quando sembra che si sia risolta una crisi se ne apre un'altra L'altro figlio, che era rimasto in casa e si era dimostrato fedele al padre di fronte all'accoglienza festosa riservata al fratello si indigna, denunciando quello che a suo parere è una vera ingiustizia una disparità di trattamento In cuor suo, egli sperava di essere ricompensato con un capretto per far festa con gli amici ma non gli rimaneva altro che aspettare pazientemente la morte del padre per potersi concedere ciò che gli sembrava essergli negato Il padre gli ricorda che in realtà essi hanno tutto in comune e nessuna gioia gli è mai stata negata La festa, come quella organizzata dal padre infatti, non è un'occasione per ostentare quanto si possiede o per far sfoggio del proprio potere ma è un'opportunità di condividere la gioia della riconciliazione e della comunione La festa è il tripudio della gioia per la speranza compiuta Il padre porta nel cuore una speranza che non viene spenta dal peccato il rifiuto opposto lì dai suoi figli Questa speranza guida il figlio a tornare dal padre e quando giunge a casa scopre che la vera eredità non sono i beni materiali ma l'amore del padre Quando accogliamo l'amore di Dio abbiamo tutto Gesù è il nostro fratello maggiore inviato dal padre per venirci a cercare e riportarci a casa Egli è il servo che è incaricato dal padre di rivestirci della nostra dignità filiale e di organizzare il banchetto nel quale lui stesso si offre come agnello Gesù, mediante lo Spirito Santo, quale nostro fratello maggiore non ci permette tanto di comprendere chi è Dio ma di lasciarci abbracciare da Lui che ci introduce nella sua festosa familiarità La missione della Chiesa, similmente non si riduce ad una catechesi che fornisce verità astratte e strane alla vita concreta Dio la vuole come profezia per far scoprire ad ogni uomo di essere figlio amato e via per condurlo alla comunione intima con Lui La Chiesa, comunità di fratelli e di sorelle di Gesù Cristo è l'icona storica della Trinità che racconta con la sua storia dell'infinito amore di Dio Quanto più la Chiesa vive la sua vocazione alla comunione fraterna sostenuta e guidata dallo Spirito Santo tanto più diventa nel mondo speranza per gli uomini e le donne che portano sulla propria pelle le cicatrici della discordia, del peccato e della morte Uno è l'amore, ma molteplici sono i servizi nei quali si manifesta Uno è la Chiesa, ma molti i Suoi figli Tutto nasce dall'amore unico di Dio e tutto si compie nell'unica comunione tra noi Suoi figli e fratelli Signore Gesù, luce di verità che ci insegna a guardare la creazione e la storia per scoprire l'infinita grandezza dell'amore di Dio che si fa incontrare nella infinita piccolezza della nostra umanità grazie perché sei sceso dal cielo per farti nostro fratello maggiore Tu, sapienza di Dio, ci fai contemplare la bellezza soprannaturale custodita nei dettagli della creazione e ci sveli il senso profondo degli enigmi nella storia umana ferita dalla guerra e dalla discordia Riversa nel nostro cuore, spesso mortificato dalle delusioni e amareggiato dalle umiliazioni la speranza che sostiene la nostra fede nelle tribolazioni e motiva l'impegno quotidiano perché prevalga la carità su ogni forma di ingiustizia La Tua Chiesa sia nel mondo segno che ricorda ad ogni uomo che la sua origine è nel cuore di Dio e che è stato creato per essere custode del creato e della fraternità Donaci il Tuo Spirito perché vinta ogni resistenza del peccato che ci contrappone e ci divide possiamo esprimere con la vita una sfumatura dell'unico amore che riconcilia i contendenti, armonizza le differenze riunisce in un solo abbraccio i figli dispersi Auguro a tutti una serena domenica e vi benedico di cuore